Si è dato oggi il via ufficiale ai lavori di costruzione della nuova caserma dei carabinieri a Loreto a Prutino presso l'area di proprietà comunale sita in via della Fornace. L'iter procedurale per la realizzazione della caserma è stato avviato nel febbraio del 2016 con la richiesta ufficiale da parte del sindaco all'allora presidente della regione, oggi senatore Luciano D'Alfonso, di un contributo economico per supportare il comune per la costruzione del nuovo stabile. Il comando della stazione dei carabinieri, provvisoriamente ripiegato presso i locali dell'ex stazione FEA di Moscufo dal dicembre 2016, sarà realizzato in parte con fondi comunitari, programma par FSC Abruzzo 2007-2013 per 700 mila euro e fondi comunali per 275 mila euro. Ci abbiamo lavorato tre anni dal 2016, era febbraio quando abbiamo rastrellato le risorse per finanziare Loreto, Giulianova e Manopello. Tutti ritenevano o difficile o impossibile, noi abbiamo lavorato d'accordo con i sindaci, con l'ottima arma dei carabinieri e con gli uffici tecnici, abbiamo sagomato prima le progettazioni e poi le coperture finanziarie. Abbiamo risolto il tema della proprietà del bene rinveniente, si sono determinate le gare d'appalto e oggi siamo alla consegna dei lavori. Nell'arco di 12-18 mesi i cantieri sono finiti. Sono molto soddisfatto perché dire carabinieri significa dire stato, sicurezza, sicurezza percepita. Oggi abbiamo tagliato il traguardo della cantierabilità, mi seranno oggi pomeriggi i lavori. un traguardo raggiunto dopo circa tre anni partendo dal nulla e credo che nel giro di un anno e mezzo, massimo due carabinieri saranno a Loreto operativi. Questa amministrazione ne va fiera ringraziando tutti gli enti, ma soprattutto l'ente regionale che ha collaborato nonostante non era nelle sue competenze la costruzione di caserme e mi auguro che sarò a chi sarà presente all'inaugurazione, quindi tempi brevi per la realizzazione. Grazie. Grazie.